Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Oggi, sono qui per andare a mostrare come creare un canale Telegram di offerte grazie al programma di affiliazione Amazon. Prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi mai nessun video e lasciare un like. Detto questo, iniziamo. Col programma di affiliazione Amazon noi possiamo andare a creare un link affiliato di qualsiasi prodotto su Amazon e se una persona acquisterà tramite quel link ne guadagneremo una piccola percentuale che potrebbe aiutarci a migliorare la qualità dei video e anche a portare sempre più contenuti. Per questo tutorial vi serviranno un bot che vi andrò ora a far vedere come crearne uno, un canale Telegram appena creato con il nome offerte Amazon così come lo volete chiamare e il bot Botfather che potete trovarlo cercando la barra di ricerca. Come vedete io ne ho già creato uno e se volete unirvi questo è il link del canale, ve lo lascio comunque in descrizione. Poi ci servirà anche questo bot che si chiama Controller Bot e che ci permette di trasferire delle funzioni sul nostro bot. Ed ecco qui il nostro canale creato. Dopodiché dobbiamo andare su Botfather e fare Create a new bot. Qui lo dobbiamo andare a decidere come chiamare il nostro bot, io faccio test e poi alla fine dobbiamo mettere la scritta bot, se no non funzionerà. E poi andiamo a mettere un username, quindi ad esempio testbotprova. prova, test, prova, bot. Qui troveremo un codice che dobbiamo andare a copiare. Ora bisogna andare su Controller Bot e fare Add a new channel. Poi andiamo a fare Cambia Bot, ad esempio perché io l'avevo già fatto. Facciamo Connecti Bot e mandiamo il codice. Aggiungiamo il nostro bot al server, facciamo Make Admin e poi facciamo l'AV. Ora mandiamo un messaggio nel canale e lo inoltriamo a Controller Bot. Ora nel nostro bot, facendo il comando Start, potremo creare dei post con dei bottoni che saranno i collegamenti ai link dei prodotti. Io come prima cosa ho mandato un messaggio di benvenuto in cui spiegava cosa serviva al canale così. Ho anche specificato che io guadagnavo una piccola percentuale, come anche nella descrizione. E poi ho pubblicato tutti gli articoli, ora vi faccio vedere come pubblicarli. Andiamo nel nostro bot, clicchiamo Crea Post. Poi mettiamo Test. E qui possiamo andare a scrivere il messaggio del post. Io vi consiglio di fare la graffetta e prendere una foto da Google o fare uno screenshot alla pagina di Amazon e mettere la foto. Ad esempio, ora vado su Amazon. Ad esempio, non so, ho trovato questo telefono, faccio così. Poi faccio uno screenshot e lo ritaglio. In questo modo. Vado anche a copiare il nome del prodotto. E qui vado a scrivere tutti i dettagli, quindi aggiungo molte emoji per rendere tutto più carino. Metto il nome. A soli. Invece di. Vado anche qui a mettere l'emoji. Ad esempio, mi metto questa. Invece di. Metto la X. Scrivo qui Prezzo. E poi Prezzo. Barrato. Io utilizzo una tastiera con i font. Come ad esempio questa qui che si chiama. Fonts Type Keyboard. La potete trovare sul Play Store. Andando avanti. Si trova questo qui. Strike Choke. E possiamo andare a mettere i numeri così. Poi vado a mettere. Sotto. Scrivo. Spedito da. E qui sotto metto Risparmi Il. Ok. Qui anche qui metto delle emoji. Vado a mettere Amazon Italia. E metto anche qui. L'emoji dell'Italia. E poi risparmi il. Una percentuale. Non lo so. Per cento. E poi. Come ultima cosa. Aggiungo i tag. Così che. Nella barra di ricerca del canale. Possano. Trovare più facilmente le persone. I loro prodotti. Quindi ad esempio. Non lo so. Hashtag. Telefono. Telefono. E poi. Lo mando al bot. Viene. Qui ci farà vedere. L'anteprima. Del nostro articolo. Dobbiamo fare. Aggiungi pulsanti. Qui andiamo a scrivere. Link. Poi io vado a mettere. Anche qui un emoji. Faccio. Trattino. E incollo. Il link affiliato. Per avere il link affiliato. Bisogna andare su Amazon. Bisogna essere. Con l'account in cui. Vi siete iscritti al programma. Di affiliazione. Si fa. Il tasto. Condividi. E si clicca. Copia. Link. Programma. Affiliazione. Faccio copia. Vado su Telegram. E lo mando. Faccio invia. E così. Sarà. L'esempio. Facciamo invia. Possiamo decidere. Se inviarlo ora. Se programmarlo. Oppure se. Dopo un tot di tempo. Si eliminerà. Quindi io ad esempio. Faccio invia ora. Invia. Ed ecco qui. È finito. Il procedimento. Così. Una persona. Cliccando da questo link. Potrà avere il prodotto. Allo stesso prezzo. Perché. Al cliente. Non. Cambia nulla. Ma noi darà una piccola percentuale. Per aver fatto pubblicità. A Amazon. Io ho messo. Nel mio. Sia un po' di cose. Che volevo. Sia un po' di cose. Che ho trovato scontate. Che mi interessavano. E pensavo. Che interessassero. Anche agli altri. Se volete iscrivervi. Il link. L'ho trovato in descrizione. Oppure. Vi basterà cercare. Andrino 0193. Trattino basso. Offerte. Vi faccio un esempio. Qui c'era questo organizer. Ho messo. Il nome. Del prodotto. Ho messo. A soli. E poi il prezzo. Invece di. Perché metterò soltanto. Articoli scontati. Metto. Da. Quale Amazon. È spedito. Quindi Amazon Italia. Amazon America. Così. E poi. Quanto risparmi. Di percentuale. I tag. Sono ad esempio. Organizer. Cancelleria. Portapenne. Scuola. E uno. Cliccando su organizer. Vede tutti i prodotti. Con quel tag. Quindi verrà. Molto più semplice. Trovare il prodotto. Ad esempio. Questo qui. LED. C'erano due cose LED. Quindi. Puoi vedere. Tutte e due. Gli articoli. Il video termina qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così. Lasciate un bel like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.